Ciao, sono Alba Capobianco, sono medico oncologo e lavoro presso un'unità operativa attività e gruppi multidisciplinari dell'IRXCRO. Nella mia attività quotidiana io mi occupo di coordinare il lavoro degli specialisti delle diverse discipline oncologiche che si prendono cura del paziente per individuare tutti insieme la migliore strategia terapeutica possibile, ponendo sempre i pazienti e i suoi bisogni al centro della nostra azione. È vero abbiamo attraversato un periodo molto difficile ma noi non abbiamo mai smesso di starvi vicino. Aiutaci anche tu nella lotta contro i tumori. Dona il 5 per 1000 alla ricerca sanitaria dell'IRXCRO. È semplice, non costa nulla ma può fare veramente molto. Grazie per quanto farai per noi. Insieme possiamo, insieme ce la faremo.